Flow Mainers la vediamo con una vistosa fasciatura mentre le compagne si stanno allenando, come va? Bene, però è un po' difficile di guardare adesso, che sto qui, non è dietro il campo, non è che cosa un giocatrice vuoi. Tu vorresti subito entrare in campo e dare una mano? Sì, esatto, dare una mano. È una parola grossa. Devo accettare questa cosa e devo avere pazienza. Cosa ne pensi di questa tifoseria, di questo pallabanca che si sta riempendo? Secondo me ho sentito anche che fuori stanno aspettando tante persone e secondo me sento un'atmosfera con i Pink Group, molto bello.